Stiamo preparando bene la partita, abbiamo visto parecchi video del Cittanova, sono sicuramente un'ottima squadra con gente che ha fatto anche categorie superiori ma noi arrivati a questo punto non possiamo fare altro che crederci, stiamo allenando al massimo e tutti stiamo cercando di mettere in difficoltà il mister perché vogliamo giocare tutti questa partita. Sarà sicuramente una partita difficile, loro sono arrivati secondi, in un campionato difficile hanno fatto parecchi punti quindi sicuramente sarà una partita difficile e soprattutto tattica, loro hanno tanti giocatori forti, abbiamo visto come dicevo in precedenza i video quindi dovremmo stare attenti in fase difensiva e quelle occasioni che avremo durante la partita le dobbiamo sfruttare al massimo. È una squadra che viene eseguita da molti tifosi quindi cercheranno anche di intimorirci ma noi non ci faremmo spaventare e possiamo assicurare ai nostri tifosi che andremo lì per giocarci tutte le nostre carte.